Il Ministro della Salute Roberto Speranza parla del dopo 31 marzo, giorno in cui scadrà lo stato di emergenza, ma ha detto è inutile farsi illusioni. Il servizio con i dati aggiornati di oggi, 21 febbraio 2022. Non ci sarà un giorno in cui il Covid da un momento all'altro sparirà. Per questo pensare di smantellare tutto l'impianto di regole e restrizioni a partire da una data puntuale. Magari il 31 marzo, quando scadrà lo stato di emergenza, non è la strategia migliore. Il Ministro Speranza invita tutti a tenere i piedi per terra. Il Covid non prende l'aereo e va via il 31 marzo, dice. Il Green Pass è stato ed è un pezzo fondamentale della nostra strategia e le mascherine al chiuso sono ancora importanti. Non solo Speranza apre la porta a un possibile ulteriore richiamo del vaccino. A marzo partirà la quarta dose per l'immunocompromessi, a 120 giorni dalla precedente. Ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l'estate. È da considerare probabile perché il virus, ribadisce ancora, non stringe la mano e non se ne va per sempre. Lo sanno bene soprattutto gli operatori in camice che ieri, nel secondo anniversario della scoperta del paziente primo di Codogno, hanno celebrato la loro giornata dedicata al fondatore di Emergency Gino Strada. A loro è arrivato il messaggio di omaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E grazie alla loro preparazione professionale e al loro spirito di sacrificio, afferma il Capo dello Stato, che è stato possibile arginare il rischio di perdite ancora più ingenti. Per il settore sono in programma investimenti e riforme, ma la loro efficacia è legata alla qualità e all'impegno di chi, concretamente, la fa vivere con il proprio lavoro e con la propria passione. Anche il Papa Francesco All'Angelus, come abbiamo già ascoltato, ha rivolto un pensiero di gratitudine all'eroico personale sanitario. Intanto in Puglia sono state 1.801 le somministrazioni effettuate nelle ultime 24 ore. Aumentano le adesioni dei bambini alla campagna vaccinale, tanto che finora, nei punti vaccino territoriali, sono state assicurate 76.194 dosi in favore dei bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. E oggi sono 1.730 nuovi positivi al coronavirus in Puglia. Nel dettaglio il bollettino epidemiologico regionale registra 438 casi in provincia di Bari, 123 in provincia di Brindisi, 150 nell'Abbat, 318 in provincia di Foggia, 554 in provincia di Lecce, 126 nel Tarantino. Sono stati registrati anche 8 decessi. 86.590 persone sono attualmente positive, 733 in area non critica, in terapia intensiva 56 persone.